questa è la confezione del prodotto sono spiegate alcune cose nella confezione possiamo trovare il cavetto per la ricarica micro usb e la penna che ci servirà per scrivere la tavoletta è questa semplicemente appena arriva già probabilmente è carica però è meglio caricarla prima scrive anche se non si vede tanto bene per pulire lo schermo si deve utilizzare questo tasto però se non si vuole cancellare quello che si viene scritto si può schiacciare questo tasto qui lock che serve effettivamente per bloccare come avete visto si è acceso una spia rossa e ora si può solamente scrivere però non si può cancellare per cancellare bisogna schiacciare di nuovo il tasto lock e poi si può cancellare all'altra parte ci sta l'opposito vano con la penna e null'altro invece nella parte superiore possiamo trovare il cavetto il buco per la ricarica una volta quando si ricarica si accende anche la spia che si può vedere quel bolletto di si può vedere si alla luce del giorno si vede molto bene con si può scrivere anche con le mani si possono fare disegni molto belli comunque alla fine per i bambini un prodotto molto bello